Molti clienti ci chiedono come fare a scegliere il purificatore d'aria più adatto alle proprie esigenze. Vediamo insieme la gamma dei purificatori Dyson. Il Pull Cool Me è un ventilatore purificatore d'aria ad uso personale, progettato per la proiezione dell'aria in modo focalizzato grazie alla tecnologia CoreFlow. È piccolo e portatile e quindi posso posizionarlo su una scrivania o su un comodino. Il Pull Cool Tower è in grado di diffondere aria purificata in ogni angolo della stanza grazie alla tecnologia Air Multiplier che diffonde l'aria a lungo raggio. Per chi avesse necessità di scaldare la stanza è disponibile il Pull Hot & Cool che è appunto un termo ventilatore e purificatore d'aria. Accanto a me vedete il Pull Hot & Cool versione Cryptomic. La versione Cryptomic, oltre ad avere un filtro EPA e un filtro a carboni attivi che vi ricordo essere presenti in ogni purificatore d'aria Dyson, ha uno speciale filtro che è in grado di distruggere la formaldeide a livello molecolare. Nella versione Cryptomic troviamo appunto il Pur Hot & Cool e il Cool Tower. Per chi desidera, oltre ad avere un ambiente con aria purificata, anche un ambiente con la giusta percentuale di umidità può rivolgere la sua scelta al Humidifier Plus Cool che è appunto un umidificatore e purificatore d'aria. Collegandovi al sito Dyson.it potrete trovare maggiore informazione sui nostri prodotti e se desiderate lasciare un commento potete farlo direttamente qui sotto utilizzando l'hashtag Ask a Dyson Expert. Grazie.